L'illuminazione stessa è descritta in vari discorsi e da diverse numerose angolazioni come se un albero dovesse essere descritto dall'alto, dal basso e da vari lati o un viaggio per terra, per acqua e per aria I diversi modi nei quali i discorsi descrivono l'illuminazione sono in termini di genesi interdipendente paticcia samuppada originazione interdipendente o coproduzione condizionata di tre vere conoscenze o scienze gratificazione, inadeguatezza, pericolo e fuga nel caso dei cinque aggregati degli elementi, dei desideri sensoriali delle sensazioni, del mondo in termini di quattro imprese, di quattro fondamenti della consapevolezza di quattro basi per il successo spirituale dell'abbandono dei cattivi pensieri Vi è una descrizione dell'illuminazione come conquista delle tre vere conoscenze raccontata nel modo seguente sulla base dello sviluppo della meditazione Vi sono poi descrizioni di essa in termini di una scoperta della struttura della condizionalità nell'impermanente processo dell'esistenza e in termini di ricerca di un'interpretazione non ingannevole di una vera scala di valori Nel mondo problematico delle idee, delle azioni e delle cose Delle probabilità e delle certezze Questa è la descrizione in termini di meditazione che conduce alla scoperta delle quattro nobili verità Dopo aver mangiato cibo solido e aver riacquistato le forze Allora, del tutto discosto da desideri sensoriali discosto da cose non salutari accusala Entrai e dimorai nel primo gianna che è accompagnato dal pensiero e dall'esplorazione uniti alla felicità e al piacere nati dall'isolamento Quando però in me sorse questa sensazione piacevole non le consentì di impossessarsi della mia mente Con l'acquietarsi del pensiero e dell'esplorazione entrai e dimorai nel secondo gianna Che, privo di pensiero e dell'esplorazione è accompagnato da fiducia interiore e unificazione della mente unite alla felicità e al piacere nati dalla concentrazione Quando però in me sorse questa sensazione piacevole non le consentì di impossessarsi della mia mente Con lo svanire anche di questa felicità mentre provavo ancora piacere nel corpo dimorai nell'equanimità contemplativa Consapevole e pienamente presente entrai e dimorai nel terzo gianna in relazione al quale gli esseri nobili affermano Dimora piacevolmente osservando con equanimità e consapevolezza Quando però in me sorse questa sensazione piacevole non le consentì di impossessarsi della mia mente Con l'abbandono del piacere e del dolore del corpo e con la precedente scomparsa della gioia e dell'afflizione mentale entrai e dimorai nel quarto gianna nel quale non c'è né piacere né dolore e la purezza della consapevolezza è dovuta all'equanimità contemplativa Upecca Quando però in me sorse questo piacere non gli consentì di impossessarsi della mia mente Quando la mia mente fu così concentrata purificata, luminosa immacolata e priva di imperfezioni allorché divenne malleabile, duttile, stabile, imperturbabile la indirizzai e la rivolsi alla conoscenza del ricordo delle vite precedenti Ricordai la molteplicità delle mie vite passate vale a dire una nascita due, tre, quattro, cinque nascite dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta Un centinaio di nascite un migliaio di nascite centomila nascite Molte età di contrazione del mondo Molte età di espansione del mondo Molte età di contrazione e di espansione del mondo La ero chiamato in tal modo ero di quella razza con tal aspetto tale il cibo tale esperienza di piacere e dolore tale durata della vita E morto la comparivo da qualche altra parte e lì ero chiamato in tal modo Ero di quella razza con tale aspetto con tale esperienza di piacere e dolore tale durata della vita E morto lì Ricomparvi qui Così in modo dettagliato e particolareggiato ricordai la molteplicità delle mie vite passate Questa fu la prima vera conoscenza da me conseguita nella prima veglia notturna L'ignoranza fu bandita e sorse la vera conoscenza L'oscurità fu bandita e sorse la luce come avviene in chi è diligente ardente e dotato di autocontrollo Quando però in me sorse questa sensazione piacevole non le consentii di impossessarsi della mia mente Quando la mia mente fu così concentrata la indirizzai e la rivolsi alla conoscenza della morte e della rinascita degli esseri Con l'occhio divino che è purificato e supera quello umano vidi gli esseri morire e rinascere inferiori e superiori belli e brutti felici e infelici nelle loro destinazioni compresi come gli esseri scompaiono e ricompaiono in accordo con le loro azioni Questi esseri meritevoli della loro sorte che ebbero una cattiva condotta con il corpo con la parola e con la mente che oltraggiarono gli esseri nobili con errate visioni che diedero seguito all'errata visione nelle loro azioni alla dissoluzione del corpo dopo la morte sono riaparsi in una condizione di privazione in una destinazione infelice nella perdizione perfino all'inferno Ma questi esseri meritevoli della loro sorte che ebbero una buona condotta con il corpo con la parola e con la mente che non altraggiarono gli esseri nobili con rette visioni che diedero seguito alla retta visione nelle loro azioni alla dissoluzione del corpo dopo la morte sono riaparsi in una destinazione felice persino in un paradiso celeste così con l'occhio divino che è purificato e supera quello umano vidi gli esseri morire e rinascere inferiori e superiori belli e brutti felici e infelici nelle loro destinazioni compresi come gli esseri scompaiono e ricompaiono in accordo con le loro azioni questa fu la seconda vera conoscenza da me conseguita nella seconda veglia notturna l'ignoranza fu bandita e sorse la vera conoscenza l'oscurità fu bandita e sorse la luce come avviene in chi è diligente, ardente e dotato di autocontrollo quando però in me sorse questa sensazione piacevole non le consentì di impossessarsi della mia mente quando la mia mente fu così concentrata la indirizzai e la rivolsi alla conoscenza dell'esaurimento delle contaminazioni ebbi la diretta conoscenza come in vero è che questa è la sofferenza che questa è l'origine della sofferenza che questa è l'accessazione della sofferenza e che questo è il sentiero che conduce all'accessazione della sofferenza ebbi la diretta conoscenza come in vero è che queste sono contaminazioni chi le sa che questa è l'origine delle contaminazioni che questa è l'accessazione delle contaminazioni e che questo è il sentiero che conduce alla cessazione delle contaminazioni l'oba, dosa e moa conoscendo e vedendo in questo modo il mio cuore fu liberato dalla contaminazione del desiderio sensoriale dalla contaminazione dell'essere e dalla contaminazione dell'ignoranza quando il mio cuore fu liberato giunse la conoscenza è liberato ebbi la diretta conoscenza la nascita è distrutta la santa vita è stata vissuta quel che doveva essere fatto è stato fatto non ci sarà altra rinascita questa fu la terza vera conoscenza da me conseguita nella terza veglia notturna l'ignoranza fu bandita e sorse la vera conoscenza l'oscurità fu bandita e sorse la luce come avviene in chi è diligente ardente e dotato di autocontrollo quando però in me sorse questa sensazione piacevole non le consentii di impossessarsi della mia mente non le consenti di più sarò sono 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 Grazie a tutti.